Benvenuti nel nostro canale News Gossip World. Oggi la notizia del giorno riguarda il problema che ha nel cuore, Michelle Hansaker. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti, lasciare un like e commentare, grazie. Oggi, la sempre affascinante Michelle Hansaker, la celebre showgirl, ha aperto il suo cuore condividendo le sfide che sta affrontando in questo periodo. Le sue figlie sono al centro delle sue preoccupazioni a causa di problemi di salute. Michelle Hansaker, l'intramontabile volto di Mediaset, col suo inconfondibile sorriso e la contagiosa allegria, ha conquistato i cuori dei grandi e dei piccini. Con il passare degli anni, sembra brillare ancora di più. All'età di 46 anni, è una madre orgogliosa di tre splendidi figli e recentemente è diventata anche nonna del piccolo Cesare Cerza, venuto al mondo lo scorso marzo grazie alla sua primogenita, Aurora Ramazzotti. La sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori, fin dai primi giorni della sua relazione del 1994, con il conduttore televisivo Marco Predolin, che le superava di ben 26 anni in età. La notizia fece scalpore sui giornali di Cronaca Rosa, dato che Michelle era ancora minorenne all'epoca. Ma la vita è fatta di tante sfumature, e nel 1995 incrociò il suo primo grande amore, Eros Ramazzotti, durante una notte in discoteca. Originariamente, la giovane svizzera pensava che sarebbe stata solo un'ulteriore avventura nella vita del celebre cantante. Tuttavia, il destino riservava qualcosa di diverso. Eros tornò da lei, con l'intenzione di farla sua per sempre. L'anno seguente, nel 1996, nacque la loro primogenita, Aurora Sophie. Nel 1998, Michelle e Eros celebrarono il loro amore con un sontuoso matrimonio da favola, ma purtroppo, come spesso accade nelle favole, ci fu un'inesorabile svolta. Nel 2002 giunse l'annuncio del divorzio. Nonostante tutto, i due ex coniugi scelsero di mantenere un rapporto sereno e costruttivo, nell'interesse della loro adorata figlia. La vita riserva sempre nuovi capitoli, e così Michelle Hanzeke ha scelto di intraprendere la sua carriera nello spettacolo, guadagnando fama attraverso la conduzione di Zelig, affiancata da Claudio Bisio. L'amore può sbocciare, quando meno te lo aspetti, come dimostrato da Michelle, che dopo anni di fluttuanti flerte e momenti da single, ha incontrato l'uomo che le ha fatto battere il cuore. Ancora una volta, parliamo di Tommaso Trussardi, brillante imprenditore in mente, dietro l'omonima casa di moda. Nel 2013 hanno accolto la loro prima figlia, Sole, che ha festeggiato il suo primo compleanno nel giorno delle loro nozze, nell'ottobre 2014. La loro seconda figlia, Celeste, è arrivata nel marzo 2015. Purtroppo, le favole spesso incontrano ostacoli, e nel gennaio 2022, dopo 11 anni d'amore, le strade di Michelle e Tommaso si sono separate. Tuttavia, continuano a incontrarsi, per preservare il benessere delle loro adorate figlie, cercando di rendere la separazione un evento meno traumatico. Molti fan della coppia sperano ancora in un possibile ritorno. Alimentati dalla dichiarazione di Trussardi, Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita, e l'amo ancora, anche se in modo diverso. Ma la stessa Michelle ha posto chiare distanze su un ritorno, come ha sottolineato in un'intervista a Verissimo, dove ha condiviso anche le sue preoccupazioni per la salute delle sue bambine, a cui tiene come ha un bene prezioso. Nel complesso, Michelle Hanzeke, con il suo sorriso contagioso e la sua forte determinazione, continua a illuminare il nostro mondo, affrontando con amore e impegno sia le sfide della vita che le gioie che essa ci offre. Grazie per essere stati con noi in queste news. Se vi è piaciuto, lasciate un like e un commento, e non dimenticate di iscrivervi al canale, per non perdere le prossime novità. Arrivederci e alla prossima news di Gossip per te!